Quando è come è iniziato il suo interesse per il cinema? Sono nato in una piccola città che ora fa parte del Pakistan e un giorno mio padre mi ha lasciato in un cinema mentre lui andava a fare una passeggiata e mi è venuto a riprendere e da lì è nata la mia passione. Le tradizioni popolari indiane lo hanno ispirato in qualche modo? Più che le tradizioni popolari che sono costruite sono stato ispirato dalle tradizioni folk che non sono costruite ma nascono spontaneamente tra la gente. Questo è quello che mi ha ispirato più che la tradizioni popolari. La maggior parte della tradizioni popolari è una copia di Hollywood, è completamente governata dal capito globale. Le tradizioni folk non sono governate da loro. Le tradizioni popolari sono crescite da una scena o un'accepzione di cose come sono. Lei pensa che l'importanza del cinema stia cambiando attraverso gli anni? Io penso che stia succedendo un disastro. Non so nemmeno se il cinema durerà. C'è una crisi tecnologica ma non solo e voi lo potete capire visto che state crescendo. Notate che non c'è lavoro e non so nemmeno se l'umanità potrà resistere essendo così indifferente verso la gioventù e i valori. In particolare il cinema indiano sta diventando sempre più popolare nel mondo. Lei pensa che questo possa portare effetti positivi oppure anche negativi? Ho visto già qualcosa, qualche cambiamento ed è positivo. Per esempio ci sono molti scambi nel mondo tra le persone. molti ragazzi imparano lingue straniere come l'indi e il giapponese. Però c'è anche qualcosa di negativo perché la ricerca non è più estetica ma è diventata solo un copiare qualcosa di già inventato. Cosa pensa di un festival organizzato dagli studenti e per gli studenti? Io penso che sia meraviglioso ed è la ragione per cui continuo a vivere. Grazie a Omar per questa intervista e grazie anche per la grande opportunità. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.